La spesa pro capite che voi immaginate quant'è? Le stime che noi diamo sono 650 euro, questa è la stima che fa il nostro nazionale su un sondaggio e quindi è una spesa ancora importante e servirà appunto per gli acquisti, soprattutto per l'alimentare ma anche abbigliamento. Gli acquisti ci sono, non quanto servirebbe, a detta di molti operatori che abbiamo sentito, ma insomma ancora c'è la speranza, il Natale non è arrivato e quindi sarà una corsa gli ultimi giorni, spero. Ha già terminato i regali di Natale? L'ultimo l'ho fatto ora, guardi. Ok, le posso chiedere cos'è? Sì, una papala con la sciarpa, bellina, ma non dico per chi è. Ha speso, se posso, insomma, piccoli regalini? No, e ho fatto dei regalini giusti, piccoli, per qualcuno un po' più grande, figlioli e nipoti, sono al primo posto. Ah, io ho fatto per tutti, ormai ti sgamo la sorpresa, però con le foto sue ho fatto dei bei pensieri, tratazze, calendari. E' una coppina appena nata, quindi è chiaro che... È una neononna, è neononna, sì, siamo sciarpe, guanti, sempre quelle, basta. Per il freddo, quindi? Sì, esatto, per il freddo. Vi posso chiedere se avete già terminato i regali di Natale? No, ancora no, ancora siamo al giro. Le dovete fare tante? Abbastanza, insomma, sei abbastanza. Siamo partiti per tempo, signora, siamo gli ultimi pensierini. Niente a nessuno? Niente a nessuno. Come mai? Perché è troppi Natali, sono 89 Natali, se che basta. Poi c'è pochi soldi, io sono pensione e più io poco che niente, allora chi li vuole se li compra. È finito.